Secondo me sarà una partita molto tosta perché loro comunque stanno giocando bene e abbiamo visto anche la partita prima che hanno vinto contro Piacenza che hanno avuto un livello abbastanza alto e adesso giochiamo in casa domenica allora per noi il nostro obiettivo è portare qua tre punti in casa. Questo è il nostro obiettivo però sappiamo che sarà una partita molto difficile. Questa è la nostra forza che dopo due set qui sotto che sono sottolineate qualche persone e che hanno aiutato la squadra e hanno cambiato la partita e questa è una bella cosa che abbiamo avuto contro Piacenza e questo sappiamo anche quando abbiamo un momento un periodo difficile e abbiamo anche altre persone che possono aiutare la squadra bene e possono entrare senza problemi. Dobbiamo mettere il nostro pensiero su Padova e dai lo facciamo!